In 1986, presso la discoteca De Niro a Castelfranco Veneto, sulla statale Castelfranco Vicenza, si svolgerà una festa con i miei amici. Questo è il biglietto che adesso andrò a illustrarvi come si svolgerà. Come vedete, De Niro a Sidaus Party. Andiamo a vedere l'interno del biglietto. I nostri DJ, nella sala fuori, nel Garden Dance Floor e nel Privé. Mr. Frankie, XFly, Marco Ferri fuori, fuori nella sala Dance Floor, Garden, Marco Ferri, Alec Dole, Terry. Poi, nel retro, gli sponsor che, graditamente, ci hanno offerto il loro appoggio per la serata. Sponsor che ci hanno offerto il loro appoggio per questa serata. Start, da sotto, Gelatiere, da Gennaro e Antica Via, nel centro del castello. Ecco, speriamo dopo ci troveremo nell'interno della discoteca dove si svolgerà la festa per eventuali varie riprese. E se ci vediamo più tardi, auguro a tutti una buona serata. Buonasera, De Niro. Discoteca De Niro. Buona panoramica. Gianni, Gianni, buonasera. Benvenuti anche questa sera, venerdì 13 settembre, una fretta, un'altra un po' freddina, alla festa enorme e mega galattica dell'Acid House Party Remember the Vogue 8889, signore e signore. E vedi sì, 8889. Noi di Magic Music, di Magic Music, ci siamo anche questa sera, in ogni punto, in ogni situazione, per voi e solo per voi. Alla mostra, rientro, i DJ esorbienti, ma non lo diciamo, Mr. Franky Goes, chiamato dagli amici Christian, e il suo fedele compagno, Paolo, fratello di Moleno, conosciutissimo in tutto il mondo, ma qua nessuno. Davanti a lui c'è Alberto, famosissimo per essere un noto Acid House maniaco. Quello che vedete intorno a voi è la parte chiusa del De Niro. Assistete anche ai preparativi di questa... Albertone nazionale. Esatto, vedete l'Albertone nazionale, ecco, si vede molto bene, in realtà è che è molto riccioluita, ecco. Vedete il vertusismo che scorre tra i DJ, come sono dei fisiti rati, che stanno provando tutti gli attrezzi, guardate come sono concentrati nel loro lavoro, li stanno facendo in modo impeccabile. Vedete, vedete, provano a baciare in questo momento il microfono. Sì, sì, ecco, così. E ancora alla vostra sinistra c'è Stefano, che ha detto alle luci, continui a tirare a sinistra, più a sinistra. Frankie, Frankie Goes, yeah! Il campbellino della discoteca De Niro, per chi non lo sapesse, avrebbe visto. Nella vostra sinistra c'è Stefano. Frankie Goes, this is the man! Christian, come prima, tutto in un quadro. Sì, fermo là. Ok, vai. Sempre molto scartosi, ma sempre molto professionali nel loro lavoro. Ci dica, signor Stefano, come va la cosa con le luci? Ci sto ingranando. Stai imparando bene? Poi partiamo la grande. Sì, sappiamo che la sua professionalità non ha limiti in queste cose. Contiamo molto sull'accecare molte persone. Vediamo Moreno che adesso si sta avvicinando e vede i miei signori, le specials. Lui, l'organizzatore, il più grande, il più amato, il più bello, l'unico, quello con la giacca rossa, Moreno Moreni. Dendo anche il 2000, sì, eccolo là, è proprio lui. Sì, eccolo. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti. 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 Bye. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti